Con l'avvio della fase 2 e il graduale ritorno alla normalità, molti automobilisti lucchesi dovranno rinnovare la RC Auto. La buona notizia, come emerge dall'osservatorio del portale facile.it, è che la tariffa media rilevata nella provincia di Lucca sta continuando a calare e dopo il meno 11,5% su base annua rilevato a marzo 2020, aprile ha fatto segnare un nuovo record con un eloquente meno 20,7% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Grazie al calo per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia di Lucca, ad aprile 2020 occorrevano in media 487 euro. Le tariffe però potrebbero presto aumentare se come prevedibile con l'interruzione graduale della quarantena e i nuovi limiti imposti al trasporto pubblico, il numero delle auto in circolazione e con esso quello dei sinistri tornerà a crescere. A livello provinciale sono state rilevate riduzioni a doppia cifra in tutte le aree della Toscana. Il calo più consistente si è registrato per la provincia di Prato, meno 24%, che però è quella che registra storicamente le tariffe più alte, seguita da quelle di Massacarrara e di Livorno. La provincia dove i premi sono calati di meno è quella di Siena, meno 14%.